Sono colpito e forse positivamente da quello che lei mi dice perché io non ho mai usato né il termine lacrime né il termine sangue. Quando il governo Monti si è insediato aveva tre obiettivi, il primo salvare l'Italia dal default, cioè la bancarotta, il secondo evitare che dovessimo ricorrere agli aiuti del Fondo Monetario Internazionale e il terzo rimettere l'economia su un percorso di crescita e di sostenibilità nel medio periodo. I primi due obiettivi per ora sono stati raggiunti, il terzo decisamente no e lo vediamo da quello che sta succedendo in questa settimana con la discussione della legge di stabilità, cioè il provvedimento di politica economica più importante del governo perché imposta il bilancio del prossimo anno, l'anno delle elezioni. Il governo prima ha fatto degli annunci, poi gli ha smentiti, poi gli ha riconfermati, adesso il ministro Vittorio Grilli dice al Parlamento riscrivete un po' voi la manovra come vi pare perché noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto e il risultato è che abbiamo un provvedimento confuso che alza le tasse in maniera retroattiva e che di sicuro non fa bene all'economia perché la recessione, ce lo dice anche la Banca d'Italia, durerà almeno fino alla fine del prossimo anno. La ministra del lavoro Elsa Fornero ci dice adesso che la sua riforma del lavoro era sbagliata che invece che limitare l'abuso dei contratti precari sta creando disoccupati e quindi riscriverà le norme che limitavano appunto i contratti precari. I tecnici sembrano un po' in confusione dopo un anno al potere, hanno finito la lista delle cose che sapevano di dover fare, quelle per cui avevano studiato nella loro carriera universitaria e adesso stanno improvvisando. Noi non possiamo permetterci come Paese e non se lo possono permettere loro se vogliono avere un futuro politico o tecnico di passare altri sei mesi con questa confusione, non ce lo possiamo permettere perché in questi sei mesi si imposta l'economia dei prossimi anni e i tecnici devono dimostrare di avere l'idea abbastanza chiara e la personalità sufficiente per gestirla. Questa fase così difficile di transizione verso le elezioni politiche. Sono Mario Monti, questo governo si autodistruggerà nel 2013. Le buste paga sono più leggere, l'iva l'hanno aumentata, la benzina costa come il brunello di Montalcino, si sono pure inventate le mazzate arate, ma più pronti di così Mario, siamo nella stessa posizione dei nuotatori prima dello starter.